ok allora proviamo a vedere se riusciamo a sostituire il posto di questa capsula il gatto e partiamo proprio dalla collada iniziale del gatto vediamo un po' se riusciamo a farlo come di comanda quindi andiamo a prendere il nostro HoppingCut andiamo a prendere il modello da cui era questo polycut.dae facciamo copia di questo file e lo andiamo a mettere sotto il nostro andiamo qui sul nostro progetto OpenFileManager e qui ce lo infiliamo facciamo una cosa semplice semplice polycut.dae allora poly vuol dire low poly un gatto low poly vedete che è stato importato quindi ha tirato giù tutte le nostre cose quindi abbiamo questo polycut.dae che possiamo usare come base della scena in realtà se noi lo clicchiamo questo polycut.dae lui ci dice che dobbiamo creare una nuova scena ereditata per poterlo manipolare quindi facciamo nuova ereditata e lui ci genera questo non salvato che è il gatto effettivamente e noi questo gatto fatto così ci vogliamo lavorare sopra nel senso che questo vedete che ha tutta una sua struttura un animation player l'animation player vedete che ha le sue hide, jump e walk perché è fatto così e viene già da blender facciamo ctrl s ce lo salviamo ctrl s ce lo salviamo facciamo gatto facciamo polycut diciamo modificabile giusto per distinguerlo qui abbiamo polycut.dae che è una scena un scene e poi abbiamo polycut modificabile che è questo ora a questo punto andiamo nel nostro player il nostro player vedete che ci aveva player tscn che se andiamo a vedere ecco ci aveva la capsula ora al posto della capsula è della collision shape che in realtà non ci interessano perché noi vogliamo la capsula potrebbe anche rimanere la collision shape ma la capsula vera e propria no quindi prendiamo questa la eliminiamo e al suo posto qui ci mettiamo come figlio anzi facciamo un concatenazione ci mettiamo il polycut modificabile tscn ok quindi questo che ha questa scena root che lo chiamiamo polycut modificabile vedete che questo qui è il gatto quindi a questo punto ha le sue ha tutte le sue proprietà e rispetto a come era la capsula però è orientato sbagliato perché vi ricordate che noi vediamo il gatto e dobbiamo vederlo non dalla coda quindi aspettate la truzzetta prendiamo il gatto e lo giriamo in maniera tale che è da guardargli la coda no 170 facciamo 188 100 vabbè 180 gradi circa qui noi abbiamo il nostro gatto quindi questo gatto è figlio di tutto questo questo ambiente se andiamo sulla testa la testa è un po' quindi qui in caso sono due o il gatto è troppo grosso infatti se noi adesso facciamo il play di questo nostro oggetto in realtà il gatto ci sarebbe vedete che si muove però non si anima quindi il gatto c'è gira quindi si comporta esattamente come ci aspettiamo ma manca ma manca diciamo l'impatto cioè la possibilità di modificarne il suo le sue ecco direi che una possibilità può essere quella di togliere il policat modificabile e importarlo in termini di unisci da scena che è questo unisci da scena gli cerchiamo il policat modificabile questo gli diciamo che vogliamo la scena sin root ok e quindi abbiamo praticamente il gatto qua e abbiamo tutta la sua armatura eccetera eccetera quindi questo è il gatto eccetera qui volendo si potrebbe mettere il qui possiamo prendere l'armatura e metterla sotto il player e prendere e quindi avere ancora l'animation player questo questo lo togliamo praticamente mi sono mi sono riportato il gatto così come è questo però abbiamo visto che la mesh va girata ok per ottenere l'effetto che ci interessa e poi andiamo a vedere se riusciamo a a farlo ecco vedete che adesso gli ho messo l'animazione questa è l'animazione di idle e questa è l'animazione di jump e questa è l'animazione di walk che probabilmente conviene mettere l'idle gli mettiamo che è continuativa ed il default no idle continuativa sì è default invece il jump gli mettiamo che rimane costante e il walk e il walk gli mettiamo continuativa ok quindi a questo punto quando quando andiamo nelle varie vedete che l'animazione è la continua perché gli abbiamo detto che continua completamente ora se vogliamo che quindi il gatto abbia le varie animazioni quando si muove dobbiamo aggiungerci proprio queste istruzioni dentro lo script quindi nel player andiamo a prendere il player e poi diciamo ecco sotto il player abbiamo questo animation player che però aspetta proviamo a mettere se lo mettiamo sotto qua animation player vediamo se continua a funzionare no per questo funziona solo quando è sotto l'armatura quindi qua direi che funziona idle ok quindi adesso così funziona quindi noi per far scegliere l'animazione dobbiamo avere un puntatore a armature animation player quindi ce lo prendiamo qui facciamo on ready var anim uguale dollar armature slash animation player quindi abbiamo anim vale quello e poi dobbiamo mettergli i vari cosi quindi cosa succede che qui quando non fa niente quindi quando è fermo e quando è fermo lo potremmo vedere tendenzialmente qua quindi se if facciamo move vec uguale vec vector 3 di 0 0 0 quindi vedete che praticamente qui non si è premuto nessuno delle delle sue cose allora facciamo anim anim punto anim era si era anim però anim punto dobbiamo mettere animation dobbiamo mettere uguale doppio al 39 no uguale allora anim punto e ci chiede animation set animation e per sapere qual era il comando lo vediamo allora qui lo blocchiamo un secondo perché da un po' in testa torniamo sul sul nostro originario in cui faceva delle animazioni e lui faceva un play anim quindi ah faceva un play anim e anim punto play quindi c'era questa funzione che gli permetteva di lanciare un'animazione quindi questo script ce lo prendiamo lo mettiamo in fondo questa funzione play anim anim ok quindi dovrebbe funzionare in teoria quindi facciamo play anim e poi il nome dell'animazione che vogliamo e questo diventerà play anim e poi idle quindi se fermo in teoria dovrebbe suonare quella animazione facciamo il run di questo nostro cosa e vedete che effettivamente il nostro gatto essendo fermo fa quell'animazione se muovo con la freccia non fa niente perché dobbiamo mettergli l'animazione corrispondente quindi se è fermo diciamo che è idle altrimenti dunque possono succedere due cose e cioè che sta saltando e allora facciamo l'animazione di salto quindi allora lo facciamo magari questo qui lo riportiamo contro l'X e lo riportiamo qua sotto quindi questo sarà fermo ok ma se per caso dunque però potrebbe avere saltato quindi facciamo cos'è if just jumped quindi se appena saltato facciamo play anim di c'era jump mi sembra che si chiamasse e poi facciamo else e poi gli mettiamo queste due cose e cioè else play anim di e vediamo un po' che cosa era prendiamo l'animazione l'animazione era idle jump e walk mettiamo walk ok quindi a questo punto l'animazione che gli facciamo fare può essere o jump se è appena saltato e questo jump va true quando ha premuto lo spazio e quindi salta e se no se è rimasto fermo va in idle altrimenti va in walk e direi che potrebbe funzionare quindi se noi facciamo il play di questo dunque due punti play a lui sta fermo se andiamo indietro e se andiamo avanti e se saltiamo vedete che cambia un po' l'animazione cambia poco ma comunque il concetto è che si capisce un pochino quindi direi che con questo abbiamo visto come introdurre il nostro collada dentro il player vedete che ho fatto un pochino di navigazioni abbiamo messo ci sono partiti dal nostro polycut punto da e con l'ad l'abbiamo portato in termine di una scena modificabile poi questa scena modificabile l'abbiamo inserita qua dentro e poi abbiamo fatto un pochino di trasformazioni la collision shape in realtà gli abbiamo lasciato la shape che c'era prima che in realtà non sarebbe il massimo quindi perché collide solo in basso però in questo caso potrebbe funzionare in quanto è dove tocca che collide però se volessimo farla bene possiamo prendere questa collision shape e prendergli il dove è questo no la scalatura se no prendiamo CTRL Z dunque collision shape che è questa la scaliamo qua vedete in modo tale da renderla un pochino più ciccia e qui gli fate praticamente la vostra la vostra collision shape che è abbastanza adeguata al gatto e per il resto abbiamo semplicemente preso l'animation player e messo in un punto opportuno abbiamo verificato che funzionasse gli abbiamo messo gli opportuni loop qua in modo tale che lo continui a farlo e il risultato come abbiamo visto è abbastanza accettabile è un gatto che si muove tra l'altro qui vedete che adesso ne abbiamo messo una collision shape troppo alta e quindi andiamo a prendergli la vedete che infatti dobbiamo dobbiamo abbassarla un po' collision shape questa la abbassiamo un po' qua ok e riproviamo ecco poi voi la mettete in modo comunque già così potrebbe andare bene ok e poi qui cade e direi che con queste sequenze di video abbiamo visto un bel po' di cose su come far muovere un personaggio all'interno delle scene direi che è tutto